Ci siamo, partiti. Starbreaker nella scia, Afkri all'esterno Iri e Ute, poi Indian Command e Martina Gray. Starbreaker di pacca in vantaggio, Dario prova a riprendere in mano, ha speso i minimi per essere dov'è. Afkri in seconda posizione all'esterno a precedere Iri e Ute, quarto in corda Indian Command con all'esterno Martina Gray. Si alza molto, come vediamo sulla letta di fronte, il terreno è pesante, lo dimostrano le immagini televisive con Starbreaker che ha due di vantaggio su Afkri, terzo in corda Indian Command con all'esterno Iri e Ute in coda Martina Gray. Marcia abbastanza di trasferimento sulla curva con Starbreaker e Afkri che precedono Iri e Ute che all'esterno Martina Gray in coda in corda Indian Command. 700 metri di conclusione, Starbreaker con gradualità prova ad allungare, Afkri si affaccia, terzo in corda Indian Command con di fuori Iri e Ute molto largo Martina Gray. Addirittura Starbreaker prova ad allungare Indian Command nella sua scia all'esterno, Afkri alla frusta, poi Iri e Ute con Indian Command che in mano va a liquidare la pratica Starbreaker che è calato a traguardo lontano. Afkri prova a inserirsi all'esterno Martina Gray con Indian Command che ha arroccato in corda, prova a riallungare da Martina Gray che prova a fare l'arrivo, poi Afkri e Starbreaker in coda Iri e Ute. Nel finale Indian Command, Christian De Muro rialzato a traguardo lontano, secondo Martina Gray. Per la terza forse Starbreaker rientra ad Afkri, ma lo dirà il giudice del Rivo, ora la camera arriva e nessun dubbio sul vincente. Ha vinto Indian Command che ha battuto nettamente Martina Gray. 2 e poi 4 per la terza è stretta. Io sono in diagonale come voi, sono al tondino nella nuova postazione, quindi è difficile per me da qui separare il terzo e il quarto. Lo farà il giudice del Rivo perché è stretta. La sensazione televisiva è un vantaggio minimo per Starbreaker. Ovviamente buona solo per il premio, non per l'ordine d'arrivo. 2 e 4 per andare alla cassa. Per il momento dalla postazione centrale è tutto.